Bella raga, buonasera, prima parola che mi viene in mente, minchia che benevento, cazzo ragazzi, Pietro Iemmello ha deciso la sfida del Giuseppe Meazza di San Siro, un benevento che è riuscito a non perdere col Milan sia all'andata e ritorno, l'unica squadra che non ha battuto il benevento e il Milan in questo campionato almeno per una volta, è dunque un benevento che almeno fino a sabato, fino a domenica prossima, è in Serie A ancora, dunque non retrocede aritmaticamente, sarebbe retrocessa se avrebbe perso o pareggiato questa sera. Addirittura ha vinto, giocando anche in 10 uomini per oltre 20 minuti, considerando l'espulsione di Diabatè che è venuta intorno al 75-74 e considerando i 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro Mariani di Aprilea, dunque un benevento, un risultato storico come era successo alla Cavese, vincere col Milan a Milano 2-1, è successo al Benevento vincere a Milano 1-0 grazie al Foggiano Pietro Iemmello al suo secondo gol in Serie A. Una partita davvero... cioè questi ragazzi ormai sono con un piede tre quarti in Serie B ma danno sempre tutto, ho visto un Benevento davvero grintoso che rispecchia soprattutto il carattere del suo allenatore De Zerbi, chissà se a inizio campionato la squadra era questa, l'allenatore era questo, si sarebbe salvato il Benevento, ricordiamo che dal novantesimo in poi ha perso oltre 20 punti, dunque poteva tranquillamente salvarsi, visto che adesso sta giocando meglio, molto meglio di Verona, di Chievo, di... sì anche Udinese, l'Udinese viene dici sconfitte consecutive, dunque un Benevento che mette grinta e cuore nonostante ormai la retrocessione, se non è adesso domenica prossima, quasi certa, questo è molto da apprezzare dai ragazzi di De Zerbi, dunque complimenti, un applauso al Benevento. La Roma che invece vince sul difficile campo di Ferrara contro la Spal 3-0, primo gol in giallo rosso per Patrick Schick in campionato, si è sbloccato anche dunque Schick, mentre la Fiorentina cade ancora, seconda sconfitta consecutiva in tre giorni, perde col Sassuolo 1-0, la decide Matteo Politano, una Fiorentina che è giocato anche in dieci praticamente alla mezz'ora del primo tempo con l'espulsione di Dabo per somma di munizione, anche qui, e dunque che dire ragazzi, domani oltre a Big Match, al match scudetto, Juventus-Napoli in serata, c'è una bella partita che si gioca nel pomeriggio, ovvero Udinese-Crotone, dunque Crotone che in caso di vittoria a Udine la vedo un po' difficile, perché comunque pensare all'Udinese 11 sconfitte consecutive, statisticamente parlando è impensabile, però il calcio è strano, e dunque scavalcherebbe la Spal in classifica, e dunque andrebbe al quart'ultimo posto e sarebbe salvo, però aspettiamo le gare di domani. Ottima prova della, dunque anche della Roma che attende il Liverpool, o meglio, va a Liverpool ad Anfield Road nel match, nella semifinale di andata di Champions League, speriamo che faccia un ottimo risultato, si presenta comunque nel migliore dei modi la squadra di Di Francesco, è una Fiorentina che deve rialzare la cresta, anche se non è facile, perché a Firenze domenica arriva il Napoli, bisogna vedere come arriva il Napoli, si saprà tutto a quest'ora di domani sera. Questo sono il commento delle partite di quest'oggi, e complimenti ancora al Benevento, davvero, bravi, bravi, bravi. Per il momento è tutto, buonanotte, sempre fino alla fine, ciao a io, a domani.